Sono Lorenzo Barbina, sono nato a Valenza, sono cresciuto a Valenza, ho iniziato tutta la mia attività di lavoro a Valenza, ho lavorato prima nel comune di Valenza per ben 25 anni, poi ho lavorato al comune delle Salte per altri 15 anni. Sulla base di questa esperienza sono stato contattato da Germano Tosetti che conosco da moltissimi anni, in quanto al momento in cui io sono stato assoluto al comune di Valenza, lui era alle sue prime esperienze di consigliere comunale e quindi abbiamo avuto modo di conoscerci per lungo tempo. Conosco quindi la sua preparazione, la sua serietà e ho sempre apprezzato la sua concretezza nel decidere le cose. Per questo motivo ho ritenuto che il mio impegno per assecondare questa iniziativa di Germano Tosetti possa essere pieno e quindi anch'io sulla base del programma che comunque ho visionato e che ho visto che è un programma concreto a servizio della città, a servizio della ripresa dell'economia, a servizio del mantenimento dei servizi sociali e dei servizi sanitari e di tutto quello che può incentivare la ripresa delle varie attività e sviluppare anche le politiche giovanili, quindi tutte cose molto concrete. Sulla base di questi fatti ho ritenuto che possa anche io impegnarmi e quindi insieme con noi per Valenza con Tosetti.